L'amico gli fa l'altro, ma a che sta a pensare? Ma guarda, sono proprio sconcertato oggi, sta a pensare a questi cazzo dei modi di diri, che sono strani, cioè, e cioè tipo, chi se somiglia se via, però gli opposti si attraggono, dice chi fa da sé fa per tre, però unione fa la forza, se chiude una porta si apre un portone, ma non lascia mai la strada vecchia per quella nuova, chi tardi arriva male alloggia, però chi va piano va sano e va lontano, ma mi dici che cazzo devo fa?